Benvenuti in questo nuovo video di Among Us E quest'oggi l'obiettivo è scappare dagli impostori Perché uno, so chi sono gli impostori Due, ho il potere di poterlo fare Perché potrò camminare attraverso i muri Ovvero in questo modo, guardate Vabbè E vabbè Raga, io lo sapevo che avrebbero ammazzato qualcuno Sono passato da storage Non ho fatto il tempo a fare neanche una task Porca miseria Sono passato da storage, stavo scendendo E col tasto report ho cliccato lì Ho beccato subito il corpo di Matti Ok Come fai ad essere troppo veloce Ragazzi non è che adesso deve essere tutto self report Infatti dai Io posso dire però che ero tutto su con Nat Alla destra di caffetteria Quindi Nat safe per una volta Anch'io c'ero, eravamo tutti e tre Potrebbe essere l'altro impostore Allora dovrei d'occhio buddy Secondo me è buddy self report Va bene Già due voti, attenzione L'ore e Nat Aia, aia Aia, aia, aia Aia, 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 aia Pesante qui Allora andiamo a sistemare le luci Io passo da qui Hai fatto la tua dimostrazione di passaggio da guarda E più o meno perché qui fanno le segnalazioni per rovinarmi i momenti Ok E qua si è sistemato Allora Devo stare attento Allora la mia dimostrazione sia questa Ovvero Che posso passare tra i suoi muri Sia il fatto che io dalla mappina vedo esattamente dove sono gli impostori Non mi dire chi sono Non mi dire chi sono Non li accuserò mai Non farò mai del gioco per far capire chi sono A meno che non sarà palese per gli altri Però io penserò tutto il tempo a sopravvivere Cioè se vuoi io sono veramente l'idiota degli idioti E non c'è altro da dire Infatti ti sto dicendo a me non lo dire Perché poi io non posso oltrepassare i muri E me la voglio giocare normale Ok Quindi non lo voglio sapere Sono morta Ciao a tutti Ciao a tutti Nero 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 Chi lo sta dicendo? Mi fate giocare oggi Porca miseria Nero raga Sono arrivato al momento che ho finto il reter nero Non è il self-repo Nessuno ne fa due Nessuno ne fa due di fila Attenzione eh Vediamo 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 Olè Inizio l'orchestra Il maestro Catto Fessicchio Ok Allora Ok E ci manca la lista Soltanto il numero due Sei morta tu no? Sì ma ho ucciso Quindi Marci No no era vero Allora No ma non mi ha ucciso Marci Eh vai l'altro è Marci Mi ha ucciso Cioè è stata giusta la scena La vista e basta Ok Devo stare attento Marci sta arrivando No Ok però security Si sta avvicinando Aiuto K Allora ha chiuso le porte Anche se posso passare attraverso Però vabbè è lontano A me l'importante è che non calcoli Nat Ho una domanda da fare a Marci Dove eri? Ehi Dove sei andato? Quando aspetta Quando sei uscito da storage? Dove sei andato? Verso destra Ok Marci è la soscina raga Stava in communication il corpo Ma non è assolutamente vero Non ci sono proprio entrato in communication Io Era davanti in entrieta di communication E tu ci sei passato davanti È possibile che non l'hai visto Sì stavo andando delitto Stavo guardando le tasche Vabbè Votate E per me è Marci Poi Gli altri? Raga io non so che fare Allora io mi fido abbastanza Io mi fido abbastanza Di Daddy e di Steph Perché con Steph Siamo andati in elettrica Alla fare le cose Le... Per me è nato e Marci Però il problema è che non ho capito Chi è dei due Quindi Non so aiuto Gli ho schippato Non ho idea raga Andate raga Andiamo Sapevo ragione Rippa No raga Dai però anche te mi uccidi così Ma guarda te Ho detto Ci ha detto male Dammi alla larga Maledetta infame Ciao Dammi alla larga Ciao Vai al mare Adesso ti seguo Dai Fere Fere Tanto sei che è l'altro no? Sì lo so Hai fianco a me Scappa Ti prego Steph qua che ti ammazza Ho rischiato Non ho rischiato Fallo fuori Fallo fuori Anato No 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 Non fa Non era Non era deciso Allora Allora Vai 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 Non devo rischiare Non devo rischiare Devo Scusate se guardo sempre lì Ma è l'unico modo per sopravvivere Eh raga L'ho trovato in ossigeno Ma non ho visto niente Cioè sono entrata per fare l'emergenza Ho trovato il corpo lì Ok Allora l'ora è pulito Perché era a caffetteria con me Ah raga Cioè Fere maledetta Devo allontanarmi da te il prima possibile Tu sei un maledetto Allora ok vedo dove sei Cosa mi mettete a muovere Sempre in gruppo voi due Sì Bella bella mossa No io prima mi sto muovendo da sola in verità Ora ci siamo incontrati Ok Però se arriva tipo due persone qua Ci facciamo double kill no Aspetta vediamo La doppia Vai No c'era solo uno Ma c'era l'altro No 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 Eravamo in tre Ma Ah no Mi sono confuso Allora io Spinché rimango qua Dovrei essere al sicuro Ok Allora Chi è morto? Somma Daddy In navigation Ok Io stavo Venendo Da Da communication Che ho fatto il download Upload Che cosa non mi ricordo più Ok E ho incontrato Fere che veniva dall'alto Sì che stavo andando dall'altra parte E poi ci siamo divise Però è vero ti ho visto salire da lì Era in navigation Ah guarda quindi può essere non entrata Quindi Cioè esatto Potrebbe essere lei come no Nel senso non Boh a me è capita spesso No io non sono Non sono entrata lì Stavo andando tutto dall'altra parte Andiamo ad esclusione al contrario Ad electrical c'erano Favi è Io No c'ero io che stavo facendo il download No c'ero io C'ero io che sto facendo il coso Ok Ok Io non c'ero allora Ah le luci Ok io ero in alto a fare il download Ok ok Va bene Scusatemi Ok no vabbè Comunque eravamo parecchi in electrical Quando hanno fatto la call Quindi rimangono Fere Bebicesca Io stavo in caffetteria E poi ora stavo in admin Stavo andando in admin a fare Vabbè Fere Bebicesca Che noi e Vesicchio Sono i quattro che non abbiamo visto Non fa a votare a caso raga Però io e Bebicesca ci siamo viste Esatto Io e Bebicesca E noi siamo incontrati Sì quindi Boh vabbè Non lo so raga Non indizi Quindi boh Vabbè Teniamo questi quattro nomi E schipiamo E rischiato un pochino Fere Eh Un po' di rischiare Però poi l'ho vista andare verso il cadavere Ho fatto no Casino Allora Andiamo a fare le cose Pa 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 E' bello sapere chi è E dove Come faccio però Su tutti i gruppetti Cioè ormai sa Giocano così Ho paura Ho paura Ho cappino Scappo Cioè un attimo prima c'era che noia Riguardo non c'era più Io ho fatto un'emergenza Devo beccare qualcuno Ok 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 Aiuto Allora Vado a fare dietro di me Ho però fatto una gig Quindi non posso Ok Allora Vado a fare questa task Però manca l'ossigeno Ok meno male Sto salvata ragazzi Aiuto Raga meno male che l'avete fatto Sono fulminato Cioè In ossigeno stavano andare a navigation Per fare l'ossigeno Io ero dall'altra parte Io stavo seguendo un marci Per fare l'emergenza E mi sono persa E ero nell'altro ossigeno Vabbè Vabbè Comunque l'ho trovato Nel corridoio giù Da reactor Per andare In storage Per dire Più o meno a livello Di electrical Buddy Morto Io sinceramente Non sono passato di lì Quindi Gli impostori stanno andando con calma C'è uno alla volta In relax Sono bravissimi secondo me Io È molto safe Potrebbe essere Martina Visto che è bravo Quindi potrebbe essere qualcuno Che è molto bravo Eh ma è molto lenta la roba Secondo me Io mi dico abbastanza Di Fere Di Marcio Perché li ho incontrati Un po' di volte In generale Nella partizione Sì anche io Beh sì confermo Anch'io li ho incontrati Più di una volta Anche Steph In realtà L'ho incontrato Più di una volta Quindi boh Bo Martina Quando non parla Secondo me Non è l'impostore Cosa mi manca Allora Security Navigation Mi sta vendo Il torcicollo A furia di controllare Se non viene Ad ammazzarmi Maledetta Ma ti stai Teletrasportando Da una parte all'altra No Come no No mi sto muovendo Tramite i muri Eh quello Eh vabbè sì Ma il teletrasporto È ancora superiore Come potere Come lo vuoi chiamare Allora Si chiama Wallack Io vorrei provare A fare una doppia Una doppia Devo comunicare Telepaticamente Con l'altro assassino Perché Voglio fare la doppia Eh se no qui Non ce la si fa Allora Io faccio così E vado a fare La taschina qua Eh niente raga Stavo andando a fare L'emergency Ho trovato il cadavere E ho rapportato Dicci Lorenzo Dicci Non ti posso dire Che ho votato Ma a cosa fermi allora Come ho già votato Dicci mi sospetti Che non posso dire Ah quindi sono sospetti E non hai visto Ok Ragazzi Se continuiamo così Perdiamo Io non vorrei dire Però Vabbè Io schifo Cosa vi devo dire Lore ma cosa vuoi Schifo No no Dopo mi dici le prove Poi vediamo Però è un sentimento Va bene Va bene Adesso poi vediamo Continuiamo le task Ma avete praticamente vinto Ah Ai 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 Qui non c'è nessuno Il reactor Il problema è che Adesso Per fare l'ultima task Io muoio Allora Siamo in due qua Il primo che entra è morto Aiuto Io non entro Oh nessuno che lo fa Allora Una la possiamo far fuori Cioè È una fanciulla Ha un fiore in testa No a tutti È stato un piacere Volevo fare la doppia Porca miseria Invece La doppia Non ci siamo capiti Telepaticamente Vabbè Lo ammetto Ciao a tutti È stato un piacere Allora Allora Tu perché Hai votato contro di me Perché Non mi hai visto No Ti ho fatto così Fronte a fronte Sulla morte di Marci È fatto dovevi stare zitto Ti dovevi stare zitto lo stesso Ma cosa devo stare zitto Voglio dire No io ho visto due persone arrivare Ero dentro il reactor Con vesticchio E ho detto Cavolo adesso facciamo la doppia Invece mi ha seguito Vabbè Dai ci sta Non poteva saperlo Ma cosa ma cosa Regà Ma che Ma che Ma io Fatevi distraggio Io è duro Che eseguo Steph Che esce dall'evento E un certo punto Mi si è teletrasportato via Ma non sono entrato In un'avvento In vita mia Ma stai mentendo Cosa Ti faccio vedere la rec Ti sei teletrasportato Adesso ti sei Non ho mai usato Ma mi hai visto uscire dalle vents Io ti stavo seguendo Da un'ora E poi ti sei teletrasportato via Report step mort Ma dove Non ho capito niente Ma mi hai visto uscire dalle vents prima Sì Ma stiamo scher... Te lo giuro Cioè Non sono sicuro di averti uscire Visto uscire dalla vents Ma eri sopra di navigation Come in caso ci sei arrivato Vabbè Vabbè Te lo giuro Vogliamo votare l'assassino Vabbè questa è Una self report easy Favete self report Sì sì Boh Non ho capito Ti giuro Ti sei teletrasportato via Completamente Non lo so Ok Devo chiedere perdono a Fede No La doppia La doppia Stupida io che ho detto La doppia Ti ho fatto scoprire Quindi è più colpa mia Ciao